Brenner, abbassa la maglietta. Johansson, non si mangia in corridoio. Ok, Lenny, ammetti di essere tu a buttare le carte. No, non sono io, io butto solo le gomme. E chi butta le carte allora? Non lo so. Oh, 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 rinchiudete gli studenti negli armadietti. No! Signor preside, sappiamo entrambi, vero, che a volte le regole vanno infrante per essere rispettate. Beh, voi non dovete farlo, siete dei supervisori, voi dovete comportarvi in modo esemplare. Questo è decisamente un abuso di potere. Ah, 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 è buffo, come l'ha detto. Non c'è niente da ridere. Voi siete licenziati. Su, ridatemi la fascia. Oh, in che cosa avremmo sbagliato? Oh, beh, è stato bello. Oh, in che cosa avremmo sbagliato?